Curcuma e limone per dimagrire e migliorare la digestione. I benefici di questa bevanda sono molteplici, ma se abbiamo qualche problema di salute sarebbe meglio consultare il medico prima di assumerla nel caso ci fossero alcuni effetti secondari. La bevanda a base di curcuma e limone è un prodotto naturale divenuto molto popolare, grazie alle sue proprietà per la salute e per perdere peso. Anche se non è un rimedio miracoloso, chi lo ha provato assicura che si tratta di un grande aiuto per migliorare il ritmo del metabolismo e mantenere sotto controllo la fame. Curcuma e limone possiedono entrambi proprietà antiossidanti e depurative. Pertanto, favoriscono l'eliminazione degli scarti in modo da evitare lo sviluppo di diversi tipi di malattie. Il basso apporto di calorie e il significativo contenuto di vitamine e minerali permettono di integrare questa bevanda ad ogni tipo di dieta. Dato che sappiamo che in molti non l'hanno ancora provata, in questo articolo vogliamo condividere nel dettaglio tutti i benefici di questa bevanda e la ricetta per prepararla in casa. Benefici della bevanda a base di curcuma e limone La curcuma è una delle spezie medicinali più utilizzate nella medicina tradizionale cinese e nella Ayurveda. Queste culture l'hanno valorizzata per le sue molteplici qualità nutrizionali, tra le quali spicca una forte azione antiossidante ed antinfiammatoria. In questa bevanda naturale uniamo i suoi effetti con quelli del prodigioso limone, un agrume molto sano che ne potenzia l'azione disintossicante. Dato che il nostro obiettivo è quello di eliminare ogni dubbio sui benefici di tale rimedio, abbiamo deciso di elencare le principali virtù di ogni suo componente. 1. Benefici della curcuma La curcuma è una radice che fa parte della famiglia delle zingiberacee, a cui appartiene anche lo zenzero. Sin dall'antichità è stata utilizzata come condimento in cucina, ma anche come base per preparare vari rimedi alternativi. Tra le sue proprietà, viene apprezzata soprattutto la sua azione analgesica ed antinfiammatoria, che può ridurre i sintomi delle lesioni muscolari e di disturbi come l'artrite. Grazie al suo alto contenuto di antiossidanti, frena il danno cellulare causato dai radicali liberi e contribuisce a migliorare la funzione metabolica per perdere peso con facilità. Tra i suoi principi nutritivi spiccano, le proteine, la fibra dietetica, la niaccina, le vitamine, A, C e D, i minerali, calcio, potassio, sodio, ferro, magnesio, zinco. 2. Benefici del limone Il limone è l'altro protagonista di questa sana bevanda che allevia i problemi digestivi e migliora il metabolismo. Tra i suoi principi nutritivi spicca la vitamina C e la pettina, una fibra naturale che migliora il transito intestinale. Nonostante il suo sapore sia acido, è uno degli alimenti più alcalini che ci siano e, pertanto, è utile per regolare il pH del sangue. Le sue proprietà antibatteriche, inoltre, rafforzano il sistema immunitario e riducono il rischio di infezioni e difficoltà respiratorie. Come preparare la bevanda a base di curcuma e limone L'infuso di curcuma e limone è molto semplice da preparare e può essere ingerito per perdere peso, mantenere sotto controllo la pressione arteriosa ed aumentare il rendimento fisico e mentale. Si può aggiungere anche un pizzico di cannella per stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue ed evitare l'accumulo di grassi. Ingredienti 1 tazza d'acqua calda, 250 ml, 1 barra 4 di cucchiaino di curcuma, 1,2 gr, il succo di 1 barra 2 limone, 1 pizzico di cannella, opzionale, 1 barra 2 cucchiaino di miele d'api, 3 gr, istruzioni Versate la curcuma nella tazza d'acqua calda e aggiungete il limone e il miele. Assicuratevi di mescolare per bene perché la curcuma tende a depositarsi nel fondo della tazza. Aggiungete un pizzico di cannella e lasciate riposare per 5 minuti. Modalità di assunzione Inassumete la bevanda a colazione oppure dopo pranzo. Bevete un massimo di due tazze al giorno, per almeno due settimane di seguito. Fate una pausa di altre due settimane e ricominciate ad assumerla. Un'altra buona opzione è includerla almeno tre volte alla settimana nella dieta regolare. Controindicazioni Le persone che soffrono di malattie epatiche devono evitare il consumo eccessivo di curcuma per non sovraccaricare il fegato. Non bisogna ingerirla in caso soffriate di calcoli alla vescica. Può inoltre interferire con l'effetto dei farmaci anticoagulanti. I principi nutritivi di questa bevanda favoriscono la riduzione del peso e presentano incredibili effetti sui principali sistemi del corpo. Assumetela seguendo le indicazioni date e aumentate la vostra sensazione di benessere.